Ragazzi, li ha voltoi! Michele Lizzoni, basso! Siete carichi per la serata che ci sarà dopo, tutti a ballare, immagino, no? Siete carichi? Quindi dai, un pochino più avanti tutti, dai! Tanto voglio dire, non è che poi vi arrestano, dai, avanti, avanti! Oppure una fotina su Facebook, guarda, andavamo lì, guarda, guarda questi dove sono andati a finire! Allora, siamo venuti qua per presentare il tour, il mini tour dell'ultimo singolo che è appena uscito che non è arrivato in tempo, naturalmente quindi non l'abbiamo, però lo faremo dopo e lo presenteremo comunque da lì, intanto il brano che presentiamo ora è un estratto dall'ultimo album Confessione di un povero imbecille, che è un concept basato su un romanzo di Gianluca Morozzi che si chiama Desfero, il brano si chiama Brucia! Vai! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti